buongiorno a tutti e bentrovati nel canale arti allegra quest'oggi ancora con un dolce il cui ingrediente principale è la zucca è la mia ciambella soffice alla zucca un dolce squisito tipico proprio del periodo autunnale nel caso in cui vorreste la torta ancora più golosa potete aggiungere delle gocce di cioccolato e perché no magari della glassa in superficie ma questo sarà un altro dolce che vi metterò in un successivo video e ovviamente una tortiera di circa 20 centimetri a forma in questo caso di ciambella in una ciotola montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e due cucchiai di zucchero in un'altra ciotola montate i tuorli con il resto dello zucchero e alcune gocce di aroma arancia al composto di uova unite la purea di zucca il latte e l'olio quindi il rumo e continuate a montare a questo punto mettete a poco per volta gli albumi fino a ottenere un composto ben omogeneo dopo aver tritato con un mixer le noci mischiateli alla farina setacciata trasferitela in una tortiera imburrata e infarinata livellatela bene e cuocetela in forno ben caldo a 170 gradi per circa 30 35 minuti mi raccomando il tempo è solo indicativo ricordatevi di fare sempre la prova stecchino sfornatela lasciatela raffreddare e decoratela con lo zucchero a velo gustate la vostra sciambella soffice alla zucca con questo video io vi saluto come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici per chi vuole può anche seguirmi su instagram non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti ciao ciao